Cento cifra, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, dai, dai, non mi puoi dire no, ok, ci siamo, ok, in quadratura ci siamo, ok, allora cosa succede? Facciamo un saluto, facciamo un saluto, facciamo un saluto, ok, ah, tutto ok, ok, noi ci siamo, eh, vai, 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 ok, allora, cosa succede adesso? Mi sentite tutti? Io sono qua, eh, adesso, io naturalmente non ti butto perché ho il microfono, però si fa uno, due, tre, si alzano le mani, 105 al equilibrio e ci si butto tutti in acqua, va bene? Il tuffo col passo in avanti, voi ci siete? Ok, mi hanno dato ok, e allora facciamo una prova, solo una prova senza tuffo, facciamo, io canto, uno, due, tre e poi 105 al equilibrio e allora facciamo una prova, solo una prova senza tuffo, uno, due, tre! E' la vita! Ok, maestro, naturalmente quando io faccio la musica, grazie, maestro, ok, siamo pronti, come ci siamo? Popolo del Chilibria Village, quali l'evento, uno, due, tre! Amore in acqua, amore in acqua, amore libero, peace and love, grazie 105, grazie che Libia, grazie naturalmente Going, che rende possibile tutto questo, e allora, abbiamo fatto trabordare la piscina.